E' arrivata? Non ancora, maestà. Allora è in ritardo? Sì, è in ritardo. Altezza? Mamma! Ciao! La famiglia è tutta riunita in salotto. La aspettano. Tre giorni. Solo tre. Sono attentissimi a te. Perciò resta molto ferma e sorridi tanto. Loro sanno tutto. Ti sbagli. Mamma, perché sei sempre così triste? Qui, in questa casa, non c'è futuro. Passato e presente sono la stessa cosa. Diana, non possono cambiare. Devi cambiare tu. Devi imparare a fare cose che detesti. Che detesto? Devono esserci due te. Quella vera e quella a cui fanno le foto. Diana, per il bene della nazione. Per la nazione. Lo sai che mi piacciono le cose semplici. Normali. Le cose vere. Non c'è speranza per me. Non con loro. Combattili. Sei tu la tua arma. Pensi che mi uccideranno? Non c'è pasta. Non c'è tempo. Non c'è sempre senti. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Grazie. Grazie a tutti.